Una breve visita in attesa all'insegna del calore e dell'affetto di Papa Francesco per i poveri. In occasione della giornata mondiale dei poveri programmata per domenica, il Pontefice ha visitato il Presidio Sanitario Solidale in Piazza Pio XII di fronte alla Basilica di San Pietro. Una struttura aperta per offrire visite mediche gratuite ai poveri e bisognosi per tutta la durata della settimana in corso, dalle 9 alle 16. Ad accoglierlo un gruppo di persone in attesa di suffruire del servizio, poi la visita al Presidio accompagnato dalle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana. Al Papa, che ha ringraziato chi si spende per l'iniziativa, è stato offerto un tè caldo da parte della Confederazione delle Misericordie che ha allestito l'area.